Grazie a tutti. la mia la mia la mia la mia la mia la mia Sì, è un po' l'idea. Oh, qui scatta il mio? Non hanno iniziato ancora a fare i figli, i piccoli, dico figli, che sono di colore nero. E' bellissimo quando atterrano, è vero, proprio lì becchi, sì. Cerca di beccarle qualcuno quando atterrano. Aterrano. 30-35 giorni è massimo. B, se vado su, se vado su e mi tieni stretto, le faccio uno dall'alto. Eh, amore? Già, perché riesce, io favo, eh? Già, perché riesce, io favo, eh? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì.